eh no allora non si può cominciare dicendo allora bella ragazzi ragazzo sposti di un dicaio ma chi lo dice c'è bella ragazzi bentornati qui sul canale di granzo e tu ho fatto cosa? braffiga qua quello che lo sai intanto ringraziamo marta scusa ma è legato il mio posto? vabbè io ti ringrazio qui il posto c'entra intanto ringrazio marta per questo che ancora devo aprire non l'aprirò perchè deve rimanere che dentro c'è l'area di russia esattamente e quindi se puoi apro l'area di russia se mi schiavo quella italiana e noi non vogliamo l'area di russia in italia perchè siamo razzisti e io continuo a guardare il visorino e comunque grazie marta per i regali e possiamo partire con oggi siamo su un video un altro video di questi qua ma c'è che culo no aspettate questo non è cascato siamo su un altro gioco di quelli stupidi giochini i flash games drunken wrestlers noi ci dobbiamo menare con dei wrestlers ubriati molto ubriati diciamo che non ho aggiunto niente a quello che dice il timono però beh due players one pad ah allora io non ho ancora ben capito come giochi nel senso non ho capito i criteri però quindi ma io perchè non mi muovo? oh 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 lo atterra lo atterra lo atterra la scena ah oh oh mamma mia oh no è più è più capito io vaffanculo vaffanculo mamma mia questo destro raro in faccia oh 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 ah merda ah merda ah merda ah merda ah merda boh oh 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 eh ancora ancora vai roky vai roky vai roky mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia la prende oh merda oh ho detto che lo prendo io oh la merda era mio il posto ho perso la merda lancialo lancialo in aria santo dio grabbalo grabbalo porco due giù 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 mi fa nel fracico vai dai ai botte no no stai in piedi stai in piedi oh ho detto che il lucro la saura è mio ancora mamma mia che round e va a vincere va a vincere questo round oh mamma mia grande si è suicidato è partito è partito è partito incredibile incredibile si frattura mezza braccia guarda come lo prende guarda come lo prende ma come lo fai a piello così mamma mia forza marcia ma bruta bruta una marcia oh gli sale di sopra la prende per una scala attenzione boh ho detto no ho detto no ma che cosa ma che cazzo ha fatto ce n'è che mica temporeggia temporeggia tanto l'avversario casca da solo pezzo di merda fammi il compito fammi il compito ma che è il sangue ti è tipo spaccato qualcosa ti stava a pie in braccio guarda io ho capito come ti sei a pie in braccio guarda metti a pie in braccio così bam oh mamma mia questo me la fa da fatture ci hai capito ti ha fatto così da fatture ti ricordi quella mossa di chi era di qualcuno che ci fosse lo metteva sotto le gambe gli aveva il braccio e poi il ginocchio così eh sì ho capito qua eh non mi ricordo eh triple age tipo ah bravo lo spinge lo spinge è stata fatta per i miei poli non lo so non lo so non lo so anche su senza rispetto se lo siano respeto non è vero non è vero come dalla spruvvista ancora bubo lo alza lo alza carcadrone non hai capito che ti devi andare bam bam mamma 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 mia mamma mia guarda ci vediamo al prossimo episodio di Grana Sti V siamo qui a ambito buon banzucchio perché quando stai con solo scelta scelta e beso